Mi portai verso l'orologio. Erano le undici. L'aborto. Il mio aborto era concluso. E oggi sono davanti a te, scalza, ferma, in difesa e ti affronto. L'aborto è stato un patto con me stessa, un compromesso, la possibilità di deviare la vita da qualche altra parte. Dove, Paola, dove si è andata la figlia? A chi interessa sapere che l'aborto non è durato soltanto quei minuti in quella distanza? Dico solo che almeno Roberto meritava di sapere, almeno lui. Perché mi volti le spalle? Hai consumato trent'anni nella tua vita per capire questa semplice parola, errore. invece oggi tu rivedi solo il tuo fallimento. Dalle scelte fatte non si torna più indietro. Inchiodano, inchiodano l'esistenza. Inchiodano, inchiodo dell'esistenza. Vediamo, vi rip retourando. Si è arrivato, vi palla avvare. Non si è arrivato prima parte di questo. Chiara è stata un bel e l'esistenza. È quella che non si tra la storia, La storia di convertirla. È un carico che è un carico che era più, è un carico che era un carico che il nostro corso�atore. Grazie a tutti.